Tu hai nominato, sono tutte presenti le ginnaste di interesse nazionale, quindi meglio vanno quelle società e meglio è anche per l'Italia. Partenza originale di Olga Struchkova, 21 anni, di Soci. Soci dove si disputeranno le prossime Olimpiadi Invernali dopo Vancouver. Grazie a tutti. Elegantissima Olga Struchkova, uno dei casi in cui veramente la musica e l'attrezzo si fondono insieme. Bello anche il lavoro dell'attrezzo perché con questa musica molto delicata in molti punti lei ha scelto appunto tutti questi brilli o sulle gambe o cambiando anche fronte, sulle braccia. Quindi ha appunto come vicini giustizia.